Dissonanze contemporanee, titolo della mostra collettiva d'arte contemporanea Trani presso Palazzo delle Arti Beltrani. Un messaggio d'arte che segna il tempo nella sua valenza e crea dissonanze, passioni come forze fondamentali della vita, impegni e qualità di sei artisti, quasi tutti legati al territorio, che si vuole sempre più omogeneo, un messaggio artistico tra comunicazione e pittura. La maestria, l'estro, la creatività di Michele Ariefolo, Arturo Avossa, Rosa Iacobone, Antonella Magliozzi, Nicola Sguera e Marcella Assecino, hanno preso forma in opere d'arte che trasmettono profondi sentimenti, suggestioni di emozioni attraverso i tratti, la forza del colore, le forme e le prospettive. Una testimonianza, come viene pure del tempo trascorso, ma mai svanito e racchiuso nello spazio giusto dell'incastro creativo dell'artista, dove il visitatore viene catturato dall'immagine che suscita il sentimento e le nostalgie dell'infinito, con il richiamo di quel fondamento che è la luce del colore sulla tela, dipinti realizzati da mani diversi, ma legati in questo percorso di convivenza artistica, in cui si cattura il movimento che scatturisce dall'energia come un'anima che vibra nella luce e dà continuità al messaggio della passione. In mostra, fuori collettiva, anche opere dei maestri Francesco Catalano e Guerino Levita. Per la prima volta in Italia, opere del maestro Catalano, provenienti dall'Art Miami Basel 2014, e opere del maestro Guerino Levita. Dissonanze contemporanee è capeggiata da sei artisti locali e nonna. La collezione che presento è molto contemporanea, è uno stile molto pulito, sto cercando di minimalizzare i corpi e di diminuire quanto più il colore, visto che il tema è contemporaneo, quindi parla della gente e di quello che succede intorno, quindi dell'attualità. Le nostre tele hanno un soggetto prevalentemente geometrico come disegno, sono composizioni studiate, ma rappresentano un po' il contrasto tra la ragione e l'istinto. Perché dalla composizione poi si passa proprio alla passionalità del colore, che è l'elemento che noi preferiamo. Noi siamo due insegnanti di arte e immagine, che dopo tanti anni di lavoro insieme ci siamo imbarcate nell'attività di pittura, e abbiamo affrontato questa pittura esaltando il colore e intrecciandolo con la geometria. Questa mia ultima produzione appartiene, si può avvicinare alla corrente dell'espressionismo astratto, con la tecnica, è stata fatta con la tecnica dell'olio su tela, è una produzione, una creazione che praticamente dà prestigio al gesto e al tratto, a un tratto che si fa portatore della tradizione pittorica.